Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, autobronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo, ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è di dare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Eccate Splendente e questo è dire, fare, baciare ASMR Italia. E Pod, sei pronto per questa prima puntata? La nostra ospite è davvero originale. Certo Eccate, non vedo l'ora di iniziare. Presentazione della concorrente. Mi chiamo Metal Bart, ho 19 anni. Adoro la musica Black Metal, vestirmi con borchie, catene, anfibi. Mi piace indossare tutte le tonalità di nero. Ogni volta che esco le persone mi guardano male, ma io non capisco proprio perché. Adoro indossare le borchie, bracciali, collane, collarini. Indosso vestiti particolari, sempre t-shirt di band, specialmente Black Metal. Più le borchie sono appuntite, meglio è. Preferisco stare sola. Sono una persona molto solitaria, un po' misantropa. Mi piace la natura, adoro passeggiare per i boschi e ispirare aria pulita. Mi piace andare ai concerti. E pantaloni particolari con cinchie, catene e spille da paglia. E le toppe. E anche sugli anfibi, indosso delle cavigliere borchiate. Molte persone mi dicono che dovrei cambiare il mio look. Perché così faccio paura. Mi affido a te. Vediamo cosa sei in grado di fare. Bene, Metal Barta. Sei pronta ad incontrare Pod? Certo, Ecate. Non vedo l'ora di iniziare. Allora vai. Io sono Pod, la tua personale consulente d'immagine. Tu chi sei? Ciao, io sono Metal Barta. Prima di venire qui, hai sveliggiato un negozio di ferramenta. Ma cosa ti è successo alla faccia? È un face painting, ti piace? No, è terrificante. Vediamo cosa ne pensa la M, gente di te. Avvio della prima fase, abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto la vorresti baciare, sposare o evitare. Cosa avranno risposto? Sicuramente baciare. Ne sei così sicura? Play. Ma io la eviterei. Mi chiedete perché? È chiaramente una fan di Immortal. Che domande. Io la eviterei così truccata. Mi ricorda la morte. Io la bacerei perché adoro le creature infernali. O la eviterei? Cioè, va beh, fa paura forte. E poi è ridicola con quel trucco. Il tuo look respinge le persone. Il 96% degli intervistati ti eviterebbe, mentre il restante non ha risposto perché è scappato spaventato. Ecco il verdetto di POD. Ti sottoporrai al mio programma di ripristino da metallara passa a passa per l'eleganza. Ok. Proviamo. Togliamo tutta quella ferraglia. Grazie a tutti. Ho detto tutta. Anche con il collare. Non fare la furba, anche il cavigliere. Togli quegli anfibi. Pulissia completa. Ma i dischetti ci vorrà tempo per togliere tutto quel trucco. Puliamo quel viso. Sono proprio curiosa di vedere cosa si nasconde dietro tutto quel bianco e nero. Alla prossima. Strufina. Strufina. Ora la tua pelle respira. Vediamo quei dischetti. Che orrore. Avvio. Cambio del look. 3 2 1 Ti piace? Sì dai, pensavo peggio. Chiediamo al pubblico se ora vuole baciarti, sposarti o evitarti. Avvio il sondaggio in alto a destra. Grazie per aver votato. I miei consigli per te. Evita i face painting se non sei sul palco di un concerto black metal. Puoi indossare abiti neri, ma con un tocco di colore in più non guasta. Questo vestito lungo ti sta d'incanto, per esempio. Puoi comunque indossare qualche maglia metal, ma con modellazione. È stato divertente trasformarti. Ora sparisci. Ciao pot.